Al Matroshow di Bologna non solo auto, ma anche il suono della passione. Siamo qui con Matteo Panini, che infatti ci descriverà il suo nuovo X-Houst, ovvero uno stereo, diciamo alquanto particolare, ma una chicca per gli appassionati. È praticamente una dock station, che innanzitutto è tutta realizzata in Italia, con la particolarità che utilizziamo i tubi di scarico delle marmette da corsa per amplificare e migliorare il suono della musica. Sono tutte realizzate a mano, con l'utilizzo di diversi materiali, tra quelli più nobili come la bettulla per creare subwoofer, fino ad arrivare proprio al telaio di alluminio dove viene praticamente montata su tutta la meccanica sonora per fare suonare queste dock station che vanno con tutti i device come Apple, Samsung o anche dei normalissimi MP3. Io me lo sono chiesto, ma se ve lo state chiedendo anche voi, ma quanto costa redare casa in questo modo? Diciamo che si parte dai 3.800 euro fino ad arrivare a 10.000 o anche superare questa cifra a seconda delle personalizzazioni che potrete aggiungere a questi particolarissimi impianti stereo. Comunque, chi potrà permettersi di godere di questo sound in salotto, io lo invidio molto. Grazie a tutti.